Allora, voglio sentire la grazia di Michele su questo, perché lei canta anche molto, spesso appunto, il mondo femminile, il mondo delle donne. Intanto l'Italia è un paese sessista dal suo punto di vista. Abbastanza. E in campo politico che lei si è fatta? In campo politico esiste una strumentalizzazione, in questo caso io penso che ci sia stata una spiegazione, e poi da che parte girata si capiva che si intendeva guardare e non girata fisicamente, secondo me, perché c'è stata una spiegazione ulteriore. Però che le donne vengano spesso sbeffeggiate e trattate in una maniera pesante anche in politica, ma non solo in politica, questo purtroppo succede molto frequentemente, ma non solo in politica, anche nel mondo del lavoro, un po' dappertutto. Ho letto un libro molto interessante, qualche giorno fa, con una prefazione di Dacia Maraini, che a critico prendeva semplicemente nei libri delle scuole elementari e delle scuole medie tutti gli aggettivi che venivano più spesso riportati parlando di uomini e parlando di donne. E quindi veniva fatta semplicemente una media matematica sull'uomo cento volte coraggioso, forte, invincibile, ricco, potente, carismatico, eccetera, eccetera. Sulla donna invece venivano riportati tutti gli aggettivi del tipo buona, umile, docile, succube, eccetera, eccetera. Allora, se si cresce già nelle scuole con dei libri di testo che riportano sulla figura maschile, sulla figura femminile degli stereotipi, ma solo degli stereotipi già che si in qualche modo stratificano nella crescita della personalità, poi è normale che gli uomini, molti uomini, non tutti fortunatamente, ringraziando il cielo, poi trattino le donne con un senso di potere e quindi con un... A proposito di donne, voglio far vedere la copertina di un libro uscito da qualche mese di Grazia di Michele che si intitola Apollonia per Castelvecchi, forse ce l'abbiamo, dove c'è la vicenda di, appunto, l'Apollonia del titolo che è una donna, è una donna del sud? Una bambina, sì, che cresce nel sud, sì, e che nasce già con delle problematiche fisiche notevoli, quindi con Graci, le settimine, eccetera, eccetera, ma la cosa peggiore è che nasce con il dono della visione, lei pensa che sia un dono, in realtà è un boomerang che le arriva contro, perché questo crea diffidenza da parte della famiglia, del piccolo paese in cui vive, e quindi è un romanzo di formazione in cui... Il mito di Cassandra. Brava, esatto, esattamente quello, anche perché lei prevede delle catastrofi, prevede delle cose... E come va a finire, no, intanto non è un giallo, diciamo, come va a finire, poi crescendo, che succede? Va a finire che gliene capitano di tutti i colori, perché come tutte le visionarie, poi un po' viene trattata da strega, un po' invece da santa quando prevede delle cose positive, ed è sola, praticamente, però l'amore la salva, ma non è l'amore verso qualcuno, verso un uomo, è proprio l'amore per la vita, perché gli uomini non ci fanno una grande e bella figura in questo libro, sono i primi che la allontanano, a cominciare dal papà, appunto il suo primo amore, eccetera, eccetera. Ma lei ce la fa da sola, comincia con la parola vita e finisce con la parola vita, quindi questo la dice lunga. Ecco, tanto per capirci, no, quando poi un artista è a tutto tondo, quindi scrive musica, scrive canzoni, scrive libri, peraltro voglio ricordare che l'altro giorno per Santo Stefano all'Auditore Un Parco della Musica a Roma, grazie di Michele, insieme a Rossana Casale e a Mariella Nava, le cantautrici, avete fatto questo spettacolo che aveva debuttato, credo, a Milano, tutto pieno. Si aveva debuttato al Belunotti, sì, sì, è uno spettacolo in cui io, Mariella e Rossana, che sono due grandi amiche, ma anche due grandi musiciste, portiamo avanti la canzone d'autore al femminile, sono 30 anni che facciamo questo lavoro e cerchiamo di promuovere anche le nuove leve della canzone d'autore, per cui all'inizio di ogni concerto diamo spazio a una giovane cantautrice perché è comunque importante portare avanti anche... E ci sono talenti, avete visto che ci sono dei talenti? Ce ne sono tantissimi di talenti, poi magari si fa la festa del primo maggio e non ce n'è neanche una, però di fianco all'Angelo Mai ce ne sono 60, 70, una più brava dell'altra. Ci sono, però vedi che cosa succede quando dici, si parla di discriminazione, di difficoltà, di stereotipi, duri a morire, no? Io mi capita ogni tanto di fare delle masterclass su... Anche come si è costruito lo stereotipo della donna nella canzone, è molto interessante, dagli anni 50 a oggi, sentire le canzoni che parlano di donne, non scritte da donne. Anche se ci sono delle canzoni stupende di donne, non scritte da donne, scritte da uomini. Certo, però voglio dire, ci sono delle canzoni scritte da donne, per esempio io sono 30 anni che parlo della condizione femminile nel mondo, no? Dalle donne velate con il burka, alle donne a cui mettono le cinture esplosive, cioè cerco da donna di parlare anche della condizione femminile. Le hanno mai proposto di candidarsi? Sì, mi ero candidata. Eh? Mi ero candidata. Si era candidata, dove? Con Ignazio Marino. Ah, con Ignazio, con l'ex sindaco... Con l'ex sindaco di Roma. E poi mi sono scandidata. Si è scandidata? Sì, perché purtroppo era un periodo in cui io lavoravo a Canale 5, ed è successo che c'era un conflitto. Avrebbe dovuto lasciare il suo lavoro? Avrei dovuto lasciare il mio lavoro anche se ero muta in quel periodo, perché io in quel periodo lì... Non poteva esprimere le sue opinioni politiche, diciamo così. Ma non le avrei espresse comunque, però in pratica sono dovuta andare da un annotaio, ho dovuto pagare per scandidarmi, per togliermi dalla lista, eccetera. Peraltro è finita da un annotaio la carriera politica di Ignazio Marino. Quindi i annotaio ci entrano sempre in questa vicenda. Tutta questa vicenda, sì. È stato molto bello l'incontro con Ignazio. Ecco, va bene. Allora, sentite Elisabetta Gardini, no? Insomma, facciamo così. Ci accenna alla chitarra una delle sue canzoni più famose? Una? Io ce ne ho tante. Non so, le ragazze di Couguè, no? Va bene. Allora, devo semplicemente, ecco, fare un'operazione. Io mi sono offerta di... Devo dire che... Insomma, è pratica, grazie di Michele. Lo faccio con piacere, eh? Ecco, è pratica. Ecco. Con piacere con noi. Ecco, sentiamo. C'è il microfono che batte, non so, pure se sono pratica. Ballerine di Degas, bianche nuvole il vento non le scioglierà, le bambine di Renoir, fiori gialli a Montparnasse, le ragazze di Gauguin, dentro gli occhi hanno il sole, lampi di uragani e la notte le accenderà, fiamme di stelle nell'oscurità, donne candide, donne che si arrendono, donne in amore, l'amore le perdonerà, donne magiche, donne che sorridono, dolce mistero, il tempo non le cambierà per noi, per il mondo. Grazie, siamo contenti dei pochi applausi di questo studio. Di mattina presto, non è male. No, no, grazie. Allora faccio...